Musica 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 Siamo qui con la partita appena iniziata tra Accipini e squadra di calcetto Però Giuliano, palla laterale verso Nino che non ci arriva Sannino col destro e c'è la rete di Sannino 1 a 0 per Accipigna Giuliano per Limatola carica il destro Limatola e c'è la rete 2 a 0 Accipigna Gran gol di Limatola De Limatola col destro Guetta interviene Ancora Barberi carica il destro Grande parata di De Luca Siamo per Trinchillo, ancora Trinchillo, col destro Trinchillo Ancora De Luca, poi Trinchillo su, ha ribattuta De Luca ancora una volta, miracolo Giuliano, partita con lui di Giuliano Vediamo se proverà il tiro, Giuliano Numero di Giuliano Esalta tre, Giuliano Che azione di Giuliano Oggi è in giornata Parte Trinchillo col destro E c'è la rete di Trinchillo 2 a 1 Accorciano le distanze I ragazzi della squadra di calcetto Barberi, numero di Barberi La palla è per Panico che si libera Panico col Mancino De Luca Parte Panico col cucchiaio 2 a 2 Partita rimessa sui binari giusti Per la squadra di calcetto Minisce il fine primo tempo Ricomincia il secondo tempo La partita da squadra di calcetto E a Cipigna Ancora Trinchillo dalla battuta Ballone deviato Ancora Giuliano Ancora Giuliano Col destro Giuliano Guetta Grande parata Parte Giuliano col destro Ancora una volta Guetta Parla di trinchillo Trinchillo Ho dribato Trinchillo E c'è la rete di trinchillo 3 a 2 Per la squadra di calcetto Guiliani e mezzo Per San Nino 3 a 3 Gol di Cipigna Grandissima partita Piena di emozioni Questa è la trinchillo Col destro Vediamo cosa Trinchillo Parata Di De Luca Di 3 a 3 Si andrà ai rigori Panico col destro E c'è la rete Primo rigore per la squadra di calcetto Segnato Andrà Giuliano Per gli Acipigna Parte Giuliano col destro Palo Primo rigore sbagliato Per gli Acipigna Toccherà a trinchillo Il secondo rigore per la squadra di calcetto Parte col destro trinchillo E c'è la rete Andrà Monturi Monturi col destro Parata di Guetta Secondo rigore Sbagliato per gli Acipigna Ancora Cristiano col destro E c'è la rete Vai l'Urghista Vai l'Urghista Paralo Va limatola col destro E c'è la rete Dai Michi Dai Michi Stava portando a Ciro il punteggio Penso che è l'ultimo No Sì Stiamo a cipare due rigore De Iorio Parata di De Luca Ciro Come? Ok Quanto siamo? Rigo Sì 3 a 2 6 6 Sì E Mario Parte Raia col destro E lo segna Andrà a barbieri Ancora parte Barbieri col destro C'è la rete E la vittoria Della squadra di calcetto E a riguri Dopo una grande partita Di entrambe le squadre